io poi vorrei fare buonasera innanzitutto vorrei farvi vedere un po di romagna ma adesso c'è buio ci sono le orchestre che suonano la mazzurca eccetera e come faccio a fare il video tranquillo tranquillo in un posto che naturalmente non è tranquillo come rimini però prima o poi ci riuscirò e quindi mi devo chiudere la stanza d'albergo e quindi esaminare un po la situazione c'è questo giallo rebus attorno a morata c'è stato non c'è stato questo incontro del resto come vi avevo detto nel video di quest'oggi tu fai il video dice una cosa poi magari c'è un incontro ci succede qualcos'altro che arricchisce magari in descrizione oppure la va a smentire allora c'è chi dice che questo incontro c'è stato la juve naturalmente smentisce che questo incontro ci sia stato c'è chi dice che questo incontro non c'è stato chi dice questo incontro c'è stato dice anche che è andato male nel senso che l'altrico madrid non sarebbe piaciuta la proposta fatta dalla juve che dovrebbe essere stata o meglio mi risulta sarebbe stata quella di proporre ancora un altro anno di prestito altri 10 milioni da pagare poi un riscatto al ribasso tra un anno mi sembra che sia una pretesa un po un po alta insomma ecco che se fosse così veramente diciamo che sarebbe un po esagerato e posso che comprendere il risentimento dell'altrico madrid in ogni caso in ogni caso io sposo l'attesi dell'incontro se avrete capito avete capito bene in ogni caso la situazione non finisce qua nel senso che le parti potrebbero potrebbero pure rivedersi è la prima volta che la juventus formula una offerta è la prima volta non ce n'erano mai state precedentemente quando dicevo non aveva formulato nessuna offerta e le cose stavano così è la prima volta che lui va a formulare un'offerta che però ripeto se posta in questi termini difficilmente potrà essere accolta e appunto non sarebbe stata accolta però c'è tempo tempo quanto io vorrei e torno su quello che vi ho detto quest'oggi che la juve ragionarsi un po come sta ragionando l'inter in questo momento come ha detto marotta mettere a disposizione dell'allenatore l'ossatura principale della squadra perché marotta ha detto anche questo per un altro motivo ben evidente è per svegliare quelle parti che ancora dormono un po per esempio di bala no attenzione noi vogliamo mettere a disposizione di in zaghi la squadra l'ossatura della squadra entro il 30 giugno quindi muovetevi altrimenti ci guardiamo un'altra parte e voglio pensare che anche la juve ragionino in questa maniera non dico tutti gli acquisti non dico tutti ma l'ossatura della squadra deve essere pronta per il 4 di luglio la continassa non ce n'è tu devi dare ad allegri la possibilità di allenare i giocatori principali quelli sui quali tu potrai fondare la tua stagione dal 4 di luglio perché sennò cominciano ad arrivarti a scaglioni perché poi dopo a fine luglio tu parti per la tournée perché la juve torna in tournée negli stati uniti e rischia di andare in tournée con una squadra e tornare indietro e trovartene un'altra ok che i tempi del mercato sono sempre stati questi ma siccome il campionato inizia prima è bene che le squadre lavorino prima con la squadra praticamente le società lavorino prima gli allenatori lavorino prima con la squadra praticamente già fatta e chi ci arriva prima a questo parte parte con un bel vantaggio parte con un bel vantaggio perché lavorare assieme ad un gruppo è importantissimo specialmente nella fase estiva nella fase della preparazione quando comincia ad insegnare le tue tattiche i tuoi schemi la tua filosofia eccetera 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 sempre nel video di oggi avevo accennato al discorso chiesa e poi è uscita l'intervista che praticamente è andata a confermare quanto c'eravamo detti quanto avevo detto è uscita poco dopo il mio video quindi chiesa non sarà disponibile per la fine del campionato per l'inizio del campionato perdonatemi per le prime quattro partite ne salterà probabilmente un altro paio a settembre e possiamo parlare più o meno di metà settembre con il rientro di chiesa lo sa benissimo anche lui ne è ben conscio e sono si tratta praticamente di rispettare più o meno i tempi giusti dopodiché dopo di che chiaramente lui c'è tanta voglia di giocare c'è tanta voglia di giocare assieme a Vlaovic dopodiché sarà il campo a fare la sua verifica il resto della mia idea che il chiesa che eravamo abituati a vedere negli anni passati probabilmente lo si vedrà considerando anche la pausa per il mondiale in Qatar lo si vedrà a gennaio ma sarebbe già importante perché comunque lì la stagione comincia ad andare in discesa è uscito questo retroscena del colloquio tra Di Bala e Di Maria cioè Di Maria avrebbe chiesto a Di Bala informazioni sulla Juve siamo a posto allora se Di Bala gli ha parlato della Juve non so quale quale quadro possa aver dipinto di questa società visti gli ultimi tempi insomma visto il rapporto degli ultimi tempi però voglio pensare che gli abbia anche parlato bene della città di Torino gli abbia parlato bene della Juventus eccetera ma qui non è un discorso di parlare bene della società qui è un discorso che il signor Di Maria si deve mettere in testa che deve fare due anni e che a un anno solo non va bene non va bene va a calpestare tutti i principi i principi più importanti quantomeno dell'atteggiamento del comportamento di una certa lealtà che tu devi manifestare nei confronti della società che ti ingaggia così Pogba sembra sempre più imminente l'annuncio il giocatore in questo momento tra l'altro è negli Stati Uniti a Miami insieme a Di Bala sono molto amici loro avrebbe chiesto la maglia numero 10 ma l'ha chiesta anche Chiesa quindi che qua ci sarà abbastanza da discutere vedremo però per Chiesa stiamo parlando di un giocatore a Juventus per Pogba di un giocatore che non è ancora bella Juventus adesso sono uscite queste ultime indiscrezioni secondo cui Zidane sarà il nuovo allenatore del Paris Saint Germain è vero che c'è un bel rapporto tra Pogba e Zidane però insomma da quanto mi risulta le trattative con la Juventus sono molto molto e ancora molto avanti sarebbe una volta faccia clamoroso oddio niente di cui stupirsi nel mondo del calcio di oggi però sarebbe un volta faccia veramente molto molto clamoroso sarebbe un perdere ecco diciamo sarebbe un perdere la faccia ad un certo punto però voi lo sapete che io finché non vedo i comunicati ufficiali posso dire sì un affare molto vicino ad essere perfezionato ma fa fede il comunicato ufficiale c'è il discorso delict anche qua si sta aprendo la possibilità che si chiuda il la firma per i prossimi due anni in modo tale da blindare il giocatore sarebbe già importante comunque per la Juventus ecco questa è una delle basi sostanzialmente da cui ripartire un delict in difesa un Pogba a centro capo un Di Mariotti per esso sugli esterni e un nuovo attaccante o barra 2 fosse Morata rimane Morata fosse un altro l'importante è muoversi anche sul fronte dell'attacco Simeone Arnautovic si fanno tanti nomi su Simeone sarebbe entrato l'Arsenal in questo momento ma lui ha già detto che io sappia o Italia o vado in Spagna a sfidare mio padre vediamo fatevi sapere tra Simeone e Arnautovic chi preferireste voi come vice lounge ecco lanciamo questo questo sondaggio poi domani magari ne parliamo iscrivetevi al canale e vado a ballare la mazzurca no ma perché sono mica capace sono mica buono ciao ragazzi a domani ciao